ok mi sto dirigendo verso la destinazione mentre venivo qua ho trovato in un furgone della polizia un accetta multiuso e in un altro furgone quattro granate due petardi il che non è male va bene va bene stiamo piano piano stiamo diventando sempre più forti allora io devo andare a qua qua cos'è va a vedere ma proprio qui qui dentro aspetta sembrerebbe di si a sì che c'è ti ricordi di me io ti ho già visto eri al campo di raiz quando ho perso la mano sei uno degli uomini di breken se tu fossi stato un altro ti avrei ucciso ah buon per me proprio così prima o poi regolerò i conti con quel pazzo di raiz ma ora ho bisogno che mi aiuti a trovare mio fratello nasim che mi ha aiutato a scappare è andato a cercare del cibo al supermercato ma non è più tornato vai a cercarlo ti pagherò e con cosa vorresti pagarmi ci sei o ci fai io e mio fratello lavoravamo per raiz sai che significa raccoglievamo roba di ogni tipo non facevamo altro cercavamo cose le trovavamo e le prendevamo abbiamo un mucchio di oggetti interessanti una parte l'abbiamo data a raiz e il resto ce lo siamo tenuto nel caso la situazione si fosse fatta difficile non rubavamo mica mettevamo da parte per il futuro bisogna essere previdenti si e poi vi hanno scoperti abbiamo ancora un mucchio di cose armi soldi medicinali nascosti per tutta la città però adesso gli uomini di raiz ci stanno cercando quindi devo essere prudente allora ci stai ci penserò su ne vale la pena te lo garantisco si mi ricordo di lui che gli hanno tagliato la mano poveraccio ok quindi cosa aspetta non ci ha sbloccato qualche missione qualcosa ah ecco fratello dove sei ok perfetto perfetto allora si seguiamo sta missione cerca il fratello di osman al mercato va bene usciamo da qui però si sta nascondendo qui dentro ok andiamo al mercato sarebbe stato bello però tipo perché non credo no non penso proprio se è così cioè che potevamo scegliere che veniva data al giocatore la possibilità di scegliere da che parte stare cioè o da raiz o da break o da break in boh vediamo anche come si volverà il tutto perché boh speriamo di riuscire ad ammazzarlo sto raiz ok acqua al mercato va bene ok dove posso entrare qua c'è un camion di quelli di raiz tra l'altro finalmente non so chi è ma chi è buh eh quindi sono venuto per i giochi sono uno di quelli che grida USA 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 si allora la gente qui detesta queste cose a me fa ridere che si fottano giusto stranieri nella pia non le reggo certo quando è iniziata questa storia degli zombie ho pensato cazzo che menata pensavo che raiz potesse fare al caso mio così ho iniziato a frequentare la sua banda ma poi tutto è andato storto questo è quello che dice lui comunque ho pensato di provare alla torre perciò questo è il patto caro connazionale tu mi porti alla torre d'avorio e io ti procuro qualcosa che in questo posto in culo ai lupi se la sono ah pensa a te eh ti aiuterei ma sono qua per un'altra missione posso lasciarti qui? ti lascio qui eh e ci vediamo dopo ok vabbè ah ok no e dai ok oh che ti medico arrivo dopo eh allora dov'è qua sta succedendo ho ricordato Osman che prima lavorava per la IS mi ha detto che il suo fratello Nazim è andato al mercato per cercare provviste e non è più tornato Osman mi darà una parte del suo bottino se riuscirò a trovare Nazim ok cerco il fratello ah scassinare è difficile scassinare è difficile no murca quasi ok qui dentro cioè strano non c'è niente mi sembra così strano mi sembra così strano cioè scassinare è difficile poi tra l'altro come una cosa preziosa ci dovrebbe essere no? sembra proprio di no in alto ah ecco ah ecco c'è qualcosa qua aspetta e dove si va? di qua aspetta non si sfonda no qui è aperto no è chiuso qui è chiuso dice un bombarolo qui è chiuso insomma che senso ha ma no andare su di qua se poi non cioè è tutto chiuso eh mi ha preso oh merda ma che cavolo eh tutto chiuso devono rompere sempre ste grate aspetta dove sono entrato qua no vediamo dov'è l'interruttore? interruttore questo chi è? non si sa dai ah ok grazie ma non si non si rompe a quanto pare ah ma quindi qui è tutto bloccato questo chi è? non ci dicono niente boh aspetta chiavi hai raccolto chiavi che si deve un po' poco ma e le chiavi aprono questa porta scommetta ma se ci sono le assi non la posso aprire eh oppure qualcos'altro boh o magari aprivano questa porta questa qua boh qui non c'è niente burka no qua non non c'è niente quindi la via giusta era per lei i condotti di ventilazione però vediamo magari l'esplosione ha aperto qualche condotto vediamo eh vediamo qui qui no qui sono tutti integri ah qui magari ok ecco i miei amici qui qui quella tutti tutti quelli che corrono eh mi raccomando sì ma io faccio così vale aia vai giù vai giù grazie ok 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 e basta un altro anzi un'altra ok l'arma da riparare ma io la lancio 6 qui aspetta ok accetta multiuso sì possiamo anche lasciarla tanto ne abbiamo di armi superiori ok ok perfetto qua c'è un corpo parla abbiamo trovato una zim parla con la zim qua non si apre c'erano tutti qua dentro aspetta eh e tu chi sei? tuo fratello mi ha pagato per trovarti beh ti sei guadagnato il tuo denaro ma osman è in pericolo ora gli uomini di raiz sanno dove si trova so di chiederti molto ma puoi portargli un messaggio di a osman che deve andarsene che ci incontreremo al nascondiglio del muro rosso lui sa cosa vuol dire d'accordo glielo riferirò adesso andiamocene da qui ok non sembra stia bene eh ok lascia il mercato ma qua non c'è nient'altro questo non lo prendiamo sembra un cavo elettrico ok ok no mi sa che boh no forse non c'è proprio nulla anche queste non sono provviste domestiche boh quanto pare non possiamo prenderle però va bene ok usciamo allora va bene ok usciamo allora ho fatto gli zombie la verità vabbè allora ehi 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 aspetta neanche il tempo di capire dove sono aspetta ok Ma do quanti Ah qua dove c'era il tipo A è tornato dentro Ah vabbè Ah ok Sì sì ma vabbè lasciamolo lì Allora devo Ok guarda qua Sì comunque ho capito cosa sono Sono che le persone Con lo scudo Cioè sulla mappa le segna come scudi Sono le persone che devo tipo Portare alla torre o da altre parti Che devo proteggere durante il tragitto Va bene sì mi è venuto in mente dopo Ok no di qua è bloccato Devo fare il giro No forse il giro di là Aspetta Forse Sì No No qua è bloccato Ok Sì 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 è stata giusta Va bene Aspetta un attimo però Pausa Anzi curiamoci Va ok Ok ci siamo Vediamo Ci saranno gli uomini di raiz Uccidi i banditi che hanno attaccato il nascondiglio di Osman Eccoli Usiamo una bella molotov Ah ma se uso la molotov Forse Forse lo uccido Aspetta Tiriamolo fuori Tiriamoli fuori Tiriamoli fuori Perfetto Ok Ok Spero muoiano Anche se Oh la la Oh la la Ah no ho preso solo uno Adesso ho preso l'altro sicuramente l'ho preso Ma a te no a quanto pare Ok Aspetta Usiamo l'arco Aspetta Ho preso il muro Vai cavolo Dai muori Ok Un fronte Non è bastato E morirà Fin da tutte quelle frecce Voglio dire Vediamo se mi viene Sì ma Ah no Pensavo che era Morto Alla madonna Dai Va bene E muori Oh Oh Finalmente Allora Prendiamo Freccia Freccia Roncola Ok Vai Freccia Tutte quelle possibili Ok Allora Tre sono morti Perfetto Sì sì Prendiamo tutto Qua ce n'è un altro Oh T'ho preso eh Andiamo a colpire Andiamo a colpire Anche se siamo stanchi Anche se siamo stanchi Fa niente No 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 Ok Basta Basta Adesso basta Bastardo Oh È caduto da solo Sembrava morto Così eh Adesso ti lancio questa Bastardo Separato Io uso l'arco Voglio vedere se pari le frecce Eh Eh Bravo Stai fermo Morto Perfetto Riprendiamo la mannaia Grazie Aspetta Cerchiamo Freccia Mi piace molto L'arco Devo dire Cos'è che è? Inventario pieno Aspetta Risolviamo subito Allora Mettiamo anche le granate Vero? Allora facciamo una cosa Mettiamo Ok Le granate Eh Poi Aspetta Aspetta Un'arma debole Ecco Possiamo smontarla Mannaia da carne No Toglie di meno 82 Sì Smontiamo anche questa Perfetto Questa la prendiamo Ok Allora Andiamo di granate Vediamo Anche se Ah no Ce n'è uno Pensavo fossero due Allora Con uno no Abbiamo anche il martello Dalla Ah martello Dalla 92 110 95 Aspetta Ah l'altro è tornato indietro Ok Aspetta Ah scappi Ecco Ma che arriva l'altro Via Infatti ho fatto un po' di casino Ma Fa niente Cavolo Stai giù Stai giù Mi riprendo intanto Ok Oh Mizzere Faccio eh Ma adesso scommetto Che ho fatto Nonostante abbia fatto casino Non arriva nessuno Non arriva nessuno Eh Eh Boh Quando non faccio niente Inventario pieno 92 Aspetta Aspetta 106 91 L'accetta Questa 93 Bella differenza è poca Eh La differenza è poca Ma non è 95 110 92 Aspetta Qual è la 91 Questo Ok 92 Prendiamola Ma niente Ok L'hanno un po' pestato Ancora un minuto E sarei morto Credevo che mi avessi tradito Quelli di Raisa avevano preso tuo fratello L'avevano già fatto parlare Quindi Nassim è morto No No sta bene Però adesso anche a lui manca qualche dito Detto che dovrete incontrarvi al nascondiglio del muro rosso E ha aggiunto che tu sai che significa Significa che non mi hai tradito Sei una persona leale Uomo di Brecken Perché non ti unisci a me mio fratello No grazie Pagami e basta Va bene Manterrò la parola Queste chiavi Aprono tre nascondigli in punti diversi dei bassi fondi Se li trovi puoi prenderti tutto il contenuto Buona fortuna uomo di Brecken Come se li trovi Cioè Devo Cioè non so dove sono Vabbè grazie Cioè voglio dire Cosa c'è qua Oh Aspetta Inventario pieno 101 Eh no 101 Adesso è parecchio 110 93 Magari Visto che la mazza ce l'abbiamo già Ebbè è bella potenziata Bella forte Magari Possiamo smontare questa Ok Roncola Perfetto Qui c'è della roba però eh Cioè vabbè grazie Cioè a meno dirci dove sono Sti nascondigli No Vabbè Ok Devo cercarli così a caso Adesso vedo Sono segnati sulla mappa Per caso Vami vedere Vediamo Ah no Ok Meno male Sono segnati sulla mappa Meno male Meno male Eh perché Voglio cercare qua Tre punti Ok Trovati Ok Allora Non Non è però una missione attiva No No Allora andiamo Vai Andiamo a vedere Cosa c'è In questi Duoghi Questi bottini Qua Ok Ok Sono vicino Al primo Nascondiglio Vediamo Dov'è Qua Ok Perfetto Vediamo la porta Va Ma non si può chiudere Vabbè Allora vediamo Ah pure devo pure scassinare Bene Fa piacere Bene Aspetta che c'è dietro uno Mi sa Ecco Anzi più duro Scusate vi fate i fatti vostri Grazie Grazie Dai Eh Fede Stanno fuori Però forse No no Entrano pure Ok Aspetta va Te ne vai fuori Dai Via Andate via Non vi voglio Aspetta Aspetta No volevo Eh non ho abbastanza spazio È morto Ah no è caduto Forse da qua Aspetta Aspetta Ok Bravi Ok Uno è andato Se anche tu ti fai i fatti tuoi Magari io posso Potevano fare però che si poteva chiudere la porta Aspetta Aspetta Facciamo che viene un po' più vicino Se no Vabbè è quello Cioè dai Morto Ah è un colpo solo Sì però sta cosa veramente Non la provo Non la provo Perché Cioè dai Già Voglio dire È un luogo segreto In segreto Nascondiglio Fatemi almeno prendere la roba in pace Voglio dire Oh morto Morto È intuntito Oh benissimo Posto Fide posso prendere la mia roba in pace No a quanto pare no A quanto pare no Cioè 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 arrivano come se avessi qualcosa che li attira Io non lo so Cioè Dov'è? Oh Eh che cavolo Basta eh Dai Eh cavolo Aspetta Ok Vediamo Uh Roncola 107 Eh però Questa ce l'abbiamo già Mi pare Aspetta Eh 106 Vabbè Vabbè posso Aspetta qua cos'è 110 Posso riciclare questa E prendo questa Che ha uno in più E basta Ok Poi qua Vediamo Ok Ecco che ne arriva un altro Coltello di ottone No va schifo No aspetta che l'ho visto Cioè veramente Dai Dai No 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 Peso la bombola Madonna Ah Merda Errore mio Eh Nella fuga Dai vediamo se riusciamo Perfetto Oh cos'è Accetta Accetta semplice Gioielli Accetta E 100 Eh Aspetta 110 Eh dai Smontiamo Strasprang E prendiamo L'accetta No il coltello Lo lasciamo Posso? No Non ci arrivo Vabbè Ok allora Mappa Secondo Qua Nascondiglio Andiamo Ok Siamo vicini al secondo Nascondiglio Vediamo Vediamo Deve essere questo Sì Ottimo Non c'è nessuno in giro Benissimo Meno male Oh Vediamo Aspetta Di là Ok Allora Caffè No Mannaia Fa un po' Schifo Vediamo Questo Ci ho messo Meno a questo Vabbè Che è più difficile Allora Sacchetto Un bel martello Da lavoro Ok Va bene Poi Cosa abbiamo Plastica Ecco Sta arrivando Qualcuno Cioè Pare che ho La calamita Cioè Veramente Cioè Boh Eh Sta cosa È stranissima Cioè Va Va Posso neanche Chiudere la porta E quindi Vabbè Quello però Si fa i fatti suoi Sembra Ok Voglio buttarlo giù Benissimo Ok Adesso vuole a che risale Forse riesco Mi sembra esagerato Va bene che è difficile Però Non c'era nessuno Qua Inventario pieno Aspetta 117 È un bel numero È un bel numero 116 110 Però è blu Eh Quindi blu Mi pare che è di più 92 95 Ok Ok vai Smontiamo Questa Sì Perfetto Sì mi pare che Viola è il top Il gradino Appena sotto È Insomma Al secondo posto Ecco È il blu Ok Adesso Si sta facendo Anche Tra l'altro Quindi mi darei Una mossa Ok Sono vicino All'altro All'ultimo Posto Diciamo Segreto Però ho dovuto Far passare la notte Perché non ho fatto in tempo Vediamo È qui dentro Vabbè qua Ho i soliti alle calcagna Però va via Vabbè Ecco qua Allora aspetta Facciamo una cosa Vediamo di ammazzarlo Sego le gambe Guarda Ecco Fede Ok Allora vediamo Vediamo se possiamo stare in pace No È pochissimo No Ok Oh Ma Ma Dico io Oh Inutilizzabile Inutilizzabile Aspetta Porca vacca E che cavolo Però Così all'improvviso Eh Non ho sentito nulla Al riguardo Cioè Ma mi devo curare Prima Vai giù Via 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 Oh Madonna Oh Questa la voglio riparare Tanto abbiamo Tanto abbiamo 35 pezzi A voglia A voglia Guardali 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 Vabbè senti Hai scassato le balle Oh Finalmente Ok Dicevo Vediamo 88 No Niente Non mi fa Mi fate aprire la porta Cioè Me ne vado Me ne vado Perché se no qua muoio male Eh Cioè Ma veramente Ma stanno pure salendo Sì Vabbè Cioè Voglio dire Cioè C'è un Veramente un rilevatore Come apro la porta Questi arrivano Cioè Una cosa incredibile Se potevo chiuderla La chiudevo Vieni qua Vieni qua Eh Che cavolo Ok No Questa fa cagare Ma qua c'è un po' di roba Ok Un po' di pezzi Chiodi Elementi chimici Statua addirittura Ok Perfetto Ok Oh Sembra Tranquillo Sembra Anche se Non voglio dirlo Troppo forte Ok Ho una bella mazza 116 116 100 116 Martello Vabbè i petardi Li lascio Dai Tanto non li uso Oddio No Non li uso Vai Tanto fa niente Lascia tutto Ok Possiamo fare così Però Prendo la mazza La riciclo Così Tanto ho visto che l'arma fa schifo Vediamo gli altri Ci sono le mie schifose Le prendo Le riciclo Cavola di qua Ok Ok Perfetto Martello da lavoro 117 Questa Uh E questa Carabina Deserte Della polizia Mia Adesso però L'inventario pieno Fide Madonna Questa sì Che è proprio Un'arma Utile Allora Fide adesso Non so cosa eliminare Aspetta Ho pistola Due carabine Anche se La carabina Potrei venderla Questa 184 Ah è uguale 184 Però 75 100 Ma vale di più Probabilmente No è uguale Allora perché è arancione Arriva qualcuno No Ok Ehm Cosa potrei Aspetta Eliminiamo Eh sì dai Ma andai appuntita E dai anche Roncola Questa Ok Che tanto Possiamo Aspetta Prendo questa Ok La Come prima Dov'è che è qua Dov'è dov'è Non la vedo Non la vedo più Aspetta No Ah qua Me l'ha messa Ok Posto Poi prendo Questa E prendo Questa Perfetto Siamo ben armati Adesso Ma veramente Ben armati Siamo ben armati Grazie a tutti.